Premessa, in questo esempio illustrato, il tracciato rosso, questo qui, si chiama tracciato evasione. E fin qui. Nel corpo testo però, a più riprese, viene definito tracciato schiavata. Ora, in queste spiegazioni io terrei evasione. Tracciato evasione mi sembra meno aggressivo, come dire. Figla. Sigla. Lapsus. Riprendiamo il discorso Last Aurora, il race game di ambientazione post-apocalittica di cui abbiamo già parlato qui qualche mese fa. Val la pena, di fatti, dare un occhio all'espansione acciaio siderale. E' questo il misterioso metallo di origine aliena in cui forgia le sue armi e armature il clan di Asgaror, i nuovi nemici che infestano le terre desolate. La confezione introduce ben cinque moduli indipendenti, ma compatibili tra loro, quindi integrabili al gioco base nel numero che si vuole. Ecco perché qui dedicherò ad ogni modulo il suo capitoletto, presupponendo conoscete già il gioco base. In ogni caso, per le sue regole, come i veri influencer, vi rimando al link in descrizione. Fanno anche con la mano così, link in descrizione. E vai, l'ho detto anche. In conclusione, poi dirò la mia, sempre modulo per modulo. Poi, per carità, prendetela con le pinze, eh. Il modulo 1 è composto da carte oggetto e carte esplorazione. Gli oggetti vanno mescolati al mazzo del base. Le carte esplorazione hanno tutte il segno più su fondo blu. Sempre divise nei periodi primo, secondo e terzo, sostituiscono quelle col più su fondo giallo del base. Saranno queste, stavolta, le carte extra da mescolare ai mazzi del base in funzione del numero di giocatori per comporre il mazzo esplorazione. Le motrici bulldozer hanno la casella di carico che fornisce un oggetto alla fine di ogni round. La cisterna estesa, invece, aumenta di 1 il limite massimo di oggetti trasportabili rispetto ai canonici 3. Quanto ai dispositivi, la novità sono le armi lancia rifiuti. Funzionano esattamente come le armi standard, ma per fare fuoco non consumano una munizione, bensì una carta oggetto. Il modulo 2 introduce i protagonisti di questa espansione, il clan di Asgaror. Si tratta di 6 nemici e 6 bottini. Sostituiscono le relative carte del base. Quando si infliggono danni a questi nemici, le prime caselle da danneggiare sono quelle con una corazza asgardiana. Al solito un nemico è sconfitto quando sono danneggiati tutti i riquadri difesa corrispondenti al numero di giocatori. Per comodità possiamo coprire le caselle in eccesso con la carta nemico. Se però, al termine del fuoco dei convoi, il nemico è ancora in gioco, a fine round le corazze asgardiane si riparano. In un round successivo, El viene sconfitta. Chi guadagna il bottino aggiunge il container asgardiano al suo convoio. Anche egli beneficia di una corazza asgardiana. Se danneggiata, si autoriparerà a fine round. Nel base, per tutti i giocatori, l'equipaggio di partenza è costituito da leader e copilota identici, in capacità di esplorazione e abilità. Differiscono solo per l'immagine. Il modulo 3 introduce equipaggi asimmetrici, che passiamo in rassegna. Quando il blu esplora con il lupo artico, oltre all'azione della carta scelta e all'azione bonus del suo spot, puoi seguire anche quelle degli spot a sinistra e destra. Il lupo inseguitore, invece, in fase di movimento, aumenta di 3 la velocità della motrice blu, ma solo se sul percorso è preceduto da almeno un convoio avversario. Se al termine di un'esplorazione il suo mutante alfa ha un segnalino contaminazione, il verde può rimuoverlo per piazzarlo direttamente nella zona di riposo. Ciò non impedisce al mutante di morire non appena riceve il terzo segnalino contaminazione. Stessa cosa per il ghoul al secondo segnalino contaminazione. Ma se ne ha uno solo quando è in zona attiva in fase movimento, il verde può scartarlo per aumentare di 2 la velocità della motrice. Sempre in fase movimento, il prototipo sintetico aumenta di 2 la velocità della motrice gialla, se il suo convoio non ha danni. Anche il drone di supporto la aumenta di 2, se il giallo scarta un oggetto. Entrambi i sopravvissuti possono essere sfamati da un oggetto, carburante o munizione, oltre che dal cibo, ovvero è possibile scartare una qualsiasi di queste risorse per aumentare di 1 la capacità di esplorazione o per spostarlo dalla zona esausti a quella di riposo. La valchiria aumenta di 1, 2 o 3 la velocità della motrice rossa, se il suo convoio è costituito rispettivamente da 3, 5 o 7 carte. Per queste stesse composizioni di convoio, la figlia della guerra infligge rispettivamente 1, 2 o 3 danni extra al primo nemico colpito in ogni fase fuoco. Il modulo 4 introduce le carte storia. Divise in base al periodo sul dorso in tre mazzi mescolati separatamente, all'inizio il solo primo periodo va accanto alla zona esplorazione. Il dorso riporta la fase e la condizione che attiva la carta storia. Va risolta appena prima che il giocatore risolva questa azione. Esplorando, il verde vuole raccogliere risorse da questo luogo. Prima l'avversario a sinistra gli legge il titolo, l'introduzione e le eventuali opzioni A e B, ma non i relativi esiti. Il verde deve scegliere una delle due e opta per la B. Solo adesso ne viene letto l'esito, che porta ad archiviare la carta sotto il luogo. Da questo momento sono due le carte storia visibili. Chiunque nel suo turno di ogni fase può affrontare una sola carta storia visibile. Solo dopo riprende la sua normale azione. Molte opzioni impongono una prova con questo tipo di sintassi. La prova si affronta subito pescando una carta esito. Se la prima lettera a sinistra è A o B, la prova è superata. In questo caso particolare però, prima ancora di pescarla, il giocatore può aumentare le probabilità di successo pagando un carburante. Se lo fa, il successo si ottiene se la prima lettera è A, B o C. Se è così, il giocatore legge questo esito. In caso contrario effettua il testo del fallimento. Altre opzioni prevedono la risoluzione di una missione da svolgere nel corso della partita. Il giocatore la piazza in zona attiva come promemoria. Ancora una volta, completata o meno, legge il successo o il fallimento. A fine round la carta storia in cima si scarta. Quando in cima al mazzo esplorazione compare la prima carta del secondo periodo, si rimuovono dal gioco le carte storia del primo periodo. Stesso dicasi con le carte storia del secondo, quando compare la prima esplorazione del terzo. Due storie del terzo periodo consentono di affrontare l'evento anche al di fuori del turno di un giocatore. In questo caso è il primo in ordine diretto di turno a doverla risolvere. Il modulo giocatore contro giocatore introduce quattro carte pvp e carte esito che vanno a sostituire quelle del base. Ogni giocatore piazza una pvp sotto la propria plancia e due segnalini danno sui primi spazi di tracciato, evasione e aggressione. Il segnalino fama parte dal meno uno. La preparazione si completa rimuovendo una carta nemico e una carta bottino da ogni periodo, prima della composizione dei mazzi esplorazione e bottino. Durante il proprio turno nella fase fuoco, in aggiunta o in sostituzione all'aprire il fuoco contro un nemico, il giocatore può attaccare un avversario, sempre nella sua regione, anche più di una volta. Come nell'attacco ai nemici rivelati, l'attaccante spende una munizione per sparare con un'arma inutilizzata e rivela la carta esiti che indica i danni inflitti. Il difensore para tanti danni quante le icone a sinistra del proprio segnalino evasione. Gli eventuali eccedenti li distribuisce sul convoglio lì dove indicato dal dorso della carta in cima al mazzo esito. Infine, avanza il segnalino evasione di tanti passi quanti danni subiti. Dello stesso numero di caselle avanza il segnalino aggressione dell'attaccante. Se oltre questa casella il segnalino prosegue sulla seconda riga. Alla fine della fase fuoco, in ordine diretto di turno, tutti avanzano di uno il segnalino evasione, se possibile. Guadagnano tutti i bonus a sinistra del proprio segnalino aggressione e lo riportano sul primo spazio. Alla fine del round si scartano le eccedenze oltre le quattro carte eventualmente rimaste in zona esplorazione. Tre in due giocatori. In pratica una in più rispetto a quelle previste dal gioco base. Tutti promossi questi moduli? Vediamo. Partiamo innanzitutto dalle nuove carte oggetto del modulo 1. Sono il classico More of the Same e siccome più ce n'è meglio è, sei oggetti nuovi li portiamo a casa con piacere. Le nuove carte esplorazione extra invece per me soppiantano definitivamente quelle del base. Non fosse altro che per la presenza delle lanciarifiuti che donano quel pizzico di variabilità in più in fase fuoco. Vi dirò, ero inizialmente scettico invece riguardo il modulo 1 sul clan di Asgaror. Ma la prova al tavolo mi ha definitivamente convinto che la difficoltà dei nemici del base era decisamente tarata verso il basso. In questo senso invece le nuove corazze asgardiane finalmente complicano un po' le cose. Vero che anche i giocatori possono guadagnarne, ma è molto più il peso che hanno sulle carte nemico. Così come non farò mai più a meno degli equipaggi asimmetrici del modulo 3. E, banalmente, meglio diversi che uguali come nel base, essendo già identici i convogli di partenza. E poi non ho notato grossi sbilanciamenti tra le varie coppie di sopravvissuti. E veniamo al mio modulo preferito, quello delle carte storia. La possibilità di esplorare con eventi narrati che impongono un bel po' di scelte o mini obiettivi da conseguire durante la partita esalta alla grande l'ambientazione. E fa niente che su quest'altare dobbiamo sacrificare un po' di ritmo. Certamente i tempi morti aumentano. Inoltre le storie possono essere usate anche in Last Automa, la modalità solitario. Per le cui regole però vi rimando al breve trafiletto dedicato nelle istruzioni. Fa da contraltare per me il modulo 5, quello che mi ha convinto meno. In un gioco competitivo, sia nella corsa all'aurora che nel cercare di accaparrarsi i bottini migliori, quel pizzico di cooperazione che c'è nell'affrontare lo stesso nemico viene mortificato da un PvP che a mio avviso è un po' troppo punitivo verso coloro che riescono a far fuoco meno. Magari solo per un'esplorazione sfortunata. E poi complicano le regole. Insomma, ne faccio volentieri a meno. Però, 4 moduli su 5 varranno ben l'acquisto, no?